Ecco, e adesso è la motivazione di me, ce la devo fare per i ragazzi, così non li metto in pensiero, ecco questa è la vera motivazione mia. Cerco di fare anche delle cose che so benissimo che non potrei fare, però mi sforzo, tipo, che ne so, dare lo straccio, tipo pulire il bagno, tipo mettersi in terra anche a pulire l'angolino, ecco queste sono le cose, cioè voi dovete capire che ci sono dei momenti dove alzare le braccia è una fatica immane, quindi fare queste cose, quando io arrivo la sera che ho fatto un quarto di queste cose, mi vergogno a dirlo, ma sono soddisfatta, è un po' poco, me ne rendo conto, però almeno queste di cosa sono riuscita a farle. Io sono convinta che con la BCO, se ben trattata e se seguita bene, si possa convivere, convivere anche serenamente, purtroppo io ho anche 93 anni, però con la volontà e con la fiducia e con l'ottimismo si superano. Per natura non la sono io molto ottimista, ma parlando di questa patologia sì. Mie sorelle, mie amiche, quando io dico vado in montagna, all'inizio di 5 anni fa, vado al mare a Varazze, andavo a Varazze, stavo via da sola, anche all'inizio, ma tu vai via da sola, ma tu sei male, e allora si può fare la vita di prima, andando in bicicletta, giocare a carte, andare a mangiare la pizza, andare in campagna, andare in montagna. Pur avendo la BCO, pur rendendomi conto che ho dei limiti, tante cose le posso comunque fare, vari interessi li posso coltivare, assistere a spettacoli, eccetera, non mi comporta sforzo e quindi a livello psicologico ne trago un grande vantaggio e poi anche a livello psicologico dopo un po' che cammino mi sento meglio, magari corro un pochino, un paio di minuti, poi cammino normale, però chissà se riuscirò anche a correre un po' di più, io ci vorrei provare.